Ehi la ciurma, io sono il mazzatesto e benvenuti nella recensione di Hamsterdamm Intanto ringrazio Future Friends Games per avermi inviato la chiave e ringrazio Muse Games invece per appunto avermi permesso di creare questa recensione Hamsterdamm è prodotto appunto da Muse Games che sono gli stessi di Guns of Icarus se per caso lo conoscete sia Guns of Icarus che Guns of Icarus Alliance che è quello che hanno rilasciato due anni fa ed è un gioco innanzitutto completamente diverso dai titoli precedenti che avevano sviluppato Di cosa si tratta? Si tratta di un picchiaduro a livelli in cui guideremo un criceto appunto come prende il nome Hamsterdamm dal gioco di parole tra Hamsterdamm e Amsterdam e dovremo andare a liberare degli altri criceti che sono stati catturati da donnole, conigli e ratti che sono insomma i nostri nemici avremo quindi dei livelli di difficoltà crescente con dei mini boss sparsi e saranno tutti gestiti su un tot di tre stelle collezionabili per ogni livello quindi in base alla richiesta che sarà diversa per ogni livello riusciremo ad ottenere una, due o tre stelle per ognuno di essi sarà necessario poi ottenere ogni tanto a dei checkpoint un determinato numero di stelle dai livelli precedenti per poter proseguire con l'avventura e quindi andare a sconfiggere tutti i livelli successivi fino ad arrivare al mega boss finale che permetterà la liberazione definitiva dei criceti da questa oppressione di questi roditori malvagi oltre come dicevo prima alle tre stelle che possiamo andare a guadagnare a ogni livello che in genere sono influenzate da quanto noi riusciamo a fare bene a livello di combo o a livello di tempo per riuscire a battere quel determinato livello ci sarà anche un bonus opzionale aggiuntivo che viene dato dai semi di girasole i semi di girasole sono ovviamente un lascito che i criceti si portano sempre dietro di sé dal fatto che adorano proprio questo tipo di mangime e quindi per ogni livello avremo anche tre possibili quest secondari ma neanche degli obiettivi secondari da raggiungere per ottenere dei semi di girasole in più e cosa servono questi semi di girasole? sono la valuta del gioco che servono poi per acquistare dei vari oggetti nel negozio gli oggetti sono in pratica delle personalizzazioni che è lo stesso che guideremo dall'inizio alla fine del gioco e è quello che potete vedere nelle immagini che stanno scorrendo adesso queste personalizzazioni ci permettono di cambiare cappello di cambiare indumenti eccetera eccetera e spesso alcuni di questi vestiti ci danno la possibilità di avere dei bonus in più oppure di poter ottenere e sbloccare degli obiettivi secondari in alcuni livelli per cui per esempio ci saranno dei livelli in cui bisogna avere un determinato tipo di guanti o un determinato tipo di occhiali se si vuole sbloccare un obiettivo secondario allora diciamo che il sistema di combattimento non è male nel senso che in realtà l'azione per picchiare è semplicemente una, c'è un solo tasto per mandare a segno un colpo ma bisogna fare attenzione a ribattere agli attacchi che stanno per arrivare dai nemici facendo in pratica un counter rapido prima che loro ci attacchino inoltre verso le fasi finali viene introdotto un attacco secondario che è un attacco caricato che serve per rompere la difesa dei nemici molte di queste azioni in più vengono combinate con dei quick time events che sono dei modi per difendersi da attacchi speciali che fanno invece i nostri nemici che sono di tre tipologie diverse ce n'è una per i topini piccoli che consiste in due tipi di quick time event molto molto rapidi che servono appunto per difenderci mentre invece ci sono i ratti di medie dimensioni che richiedono un quick time event un po' alla OSU forse in cui si sposta un indicatore bisogna premere al momento giusto il tasto indicato che sarà sempre X e invece i conigli hanno delle direzioni in cui muovere la levetta rapidamente prima di ricevere il colpo oltre questo c'è la possibilità di usare un colpo KO il colpo KO permette di eliminare completamente una barra della vita dal nostro amico che all'inizio è soltanto una ma poi i nemici si faranno sempre sempre più tosti quindi oltre alla barra rossa se ne aggiungerà una gialla qui se ne aggiungerà una viola e una verde quindi permettendoci di sconfiggerli molto più rapidamente la barra del KO si carica rapidamente se andremo a compiere una combo di attacchi base con il determinato tempismo stabilito da una piccola aura che si formerà intorno al nostro caricetto parlando di quick time events devo dire che purtroppo non li ho trovati particolarmente belli particolarmente ispirati e in più sono davvero davvero facili tranne qualche volta quello dei ratti di medie dimensioni in cui capita magari di premere troppo presto o troppo tardi la X gli altri sono molto semplici sia all'inizio della partita che alla fine quando in realtà si velocizzano un pochettino di più e chiedono un pochettino più di comandi oltre a questo diciamo che altri control che devo segnalare sono il fatto che i boss intermedi sono di semplice risoluzione più che semplice in realtà è solo una questione di memorizzazione e la maggior parte delle volte dovremo schivare delle bombe che ci vengono lanciate e il pattern delle bombe è costante tutte le volte che rifaremo il livello quindi anche quelli un pochettino più difficili basta rifarli un paio di volte in modo da memorizzare buona parte delle bombe dove vengono lanciate e tramite questo ricordo insomma schivarle tutte e riuscire a sconfiggere quel boss intermedio la durata del gioco è abbastanza contenuta diciamo che io l'ho finito sulle 5-6 ore senza arrivare appunto a sbloccare tutto però comunque arrivando al boss finale sconfiggendolo che non richiede di avere tutto a 3 stellino di sbloccare tutti gli abitivi secondari oltre a ciò un'altra pecca che devo segnalare è il fatto che purtroppo la customizzazione del personaggio e appunto anche i semi di girasole che servono per comprare questi oggetti lasciano un po' il tempo che trovano nel senso che anche i bonus che riusciamo ad ottenere o la possibilità di sbloccare altre punte di girasole altri semi di girasole scusate non sono così necessari per proseguire il gioco probabilmente serviranno giusto per i completisti per quelli che vogliono completare il gioco al 100% tenendo tutte le stelline e tutti gli obiettivi secondari ma per una run base normale a difficoltà normale non sono per niente necessarie oltre a questo appunto la difficoltà normale è molto molto semplice quindi non troverete alcuna difficoltà ad arrivare alla fine del gioco forse qualche d'una con dei livelli secondari cioè con dei boss intermedi ma i livelli non ce n'è nessuno che ho dovuto rifare più di una volta e non ho mai dovuto tornare indietro dei livelli precedenti per ottenere più stelline per riuscire a passare un checkpoint ho sempre ottenuto abbastanza stelline per andare oltre detto questo cosa è il mio risponso finale devo dire che a me è abbastanza divertito soprattutto all'inizio perché comunque lo stile grafico è carino e lo stile del combattimento è discreto ecco ovviamente se siete fan dei picchiaduro questo è troppo casual per voi però alla lunga non è abbastanza e non mi sento di consigliarvelo se non lo trovaste a prezzo scontato o comunque in un bando perché a prezzo pieno comunque non vale la candela sono contento per quanto riguarda Muse Games che abbia sperimentato qualcosa di nuovo perché comunque ha un design interessante ma non è abbastanza oltre a questo non ho parlato per niente della storia ma è la storia abbastanza trascurabile nel senso che ci sono delle brevi scene disegnate neanche animate in cui si capisce un attimo la storia non ci sono dialoghi né niente e non è così importante insomma è solo per spiegare guarda c'è un cattivo devi picchiarli perché sono stati cattivi con te e quindi ti dà la giustificazione ma non è una storia importante detto questo se la recensione vi è piaciuta vi è servita vi invito a lasciare un pollice in su a scrivere un commento e iscrivervi al mio canale se per caso non l'aveste già fatto ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti